Abbiamo il più grande tesoro pirata della storia a portata di mano. La zanna di Ganesh non è semplice da scovare. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui. Non cazzo! Chiunque sia ossessionato da quel tesoro, ottiene ciò che inverda. Sei pronto per il tuo destino? Lei stai insomma. Lei stai insomma. Grazie a tutti.